Musica E rece E rece Alex se intreaba daca El consigui sa Dumez-o 2 ani de capa Daca E trebunat 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 Piaşuna Piaţuna Piaşuna Piaşuna Dau-te Mi-a optat pofb? Asta dimost Asta ma te mă duşi La ma. Pentru duşmaţi Să trăieşte şi gura la ei Il nostro corso è il nostro corso gratuito. Sì! 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 Stai facendo un bambino di agremento, per il bambino. Martina? Ce faci? Faci un castello? Faci un castello? Un castello? Bravo! E super apa! Cum e apa? Hai, 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 baga-te la fund! Hai, hai, baga-te la fund! Tata! Hai! 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 Hai, iubire, hai! Hai ca poti! Chiam-l si pe Andrei! Uau! M-am fiat la picioare! Uau! 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 Uau zain Maszi Maapun Vese Doen Uau! E' alpa in giù d'acolo. Come a fost? Come a fost? Buongiorno a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.